Il padre è rimasto re pochi mesi e subito viene ucciso. Dove essere talmente balordo, tutta gente cresciuta alla scuola di suo padre, notate uno che resta re 55 anni in quel modo, ha il tempo di costruirsi una generazione di collaboratori fatti col suo stampino, di sceglierseli a suo uso e consumo. I es men diremmo noi oggi, pronti ai suoi ordini e che prendono la coscienza e la mettono nel cestino perché altrimenti la carriera non la fanno. Quindi collaboratori, cortigiani, nobili, militari, amministratori, a qualunque livello dell'amministrazione statale, della società, da chi era fatta? Gente che la pensava come il nonno di Giosia. Che aria avrà respirato Giosia in quella corte di Gerusalemme? Quella del nonno, quella provocata da una vita, da due generazioni e a otto anni uno è ancora lì che beve tutto. Quindi come parte questo ragazzo, questo bambino? Parte nel peggiore dei modi. Però la Bibbia parla di Chalchia. Chalchia è un sacerdote, uno dei pochi sopravvissuti, perché Manasse tra le altre cose ha cancellato anche il sacerdozio di discendenti di Aronne, ha messo su Yes Men anche lì, gente che andava bene a lui e che era disposta a utilizzare anche il culto a Yahweh per l'interesse del re. E' uno dei pochi sopravvissuti che aveva una qualche idea della fede in Yahweh e che ha a che fare con il re comunque, perché è uno dei responsabili del Tempio di Gerusalemme. Quanto avrà potuto influire sul re Giosia? Non si sa esattamente. Ha a che fare, però fin dove arrivasse almeno all'inizio la fiducia e la familiarità di uno con l'altro, non è il suo tutore, è il suo collaboratore. Uno dei pochi collaboratori rimasti, Chalchia ha una sospida dorsale comunque, con la sua fede personale, perlomeno. Altri non se ne vedono in giro. Ecco, questo ragazzino cresce, come siano i primi atti della sua vita, la Bibbia non dice niente. Dice però che a un certo punto, e ancora abbastanza giovane quando questo avviene, un bel giorno, mentre stanno facendo dei lavori di restauro nel Tempio di Gerusalemme, viene trovato un rotolo della legge. Qualcuno insinua all'està Chalchia, che all'era scritta, e la scundille, perlomeno del fare la unica fatima di chi la trovais. Qualcuno pensa, invece, forse qualche riflessione fatta sul senso della fede, la parola di Dio, l'Esodo soprattutto, il grande fatto dell'Esodo, una qualche riflessione su quello come attualizzazione, che senso ha, che valore ha per noi l'Esodo, eccetera, eccetera. Che durante il lungo regno di Manasse, il quale faceva in modo che sparisse ogni riferimento e ogni cosa che ricordava il Dio di Israele, avesse nascosto questo rotolo per impedire che venisse bruciato come tutti gli altri. Comunque sia, io non ero là sinceramente e non saprei dirvi quale sia la risposta esatta a queste domande che gli esperti si pongono. Il fatto è, la Bibbia dice che viene trovato, viene portato al re, il quale se lo fa leggere. Qualcuno pensa che quel rotolo contenesse il nocciolo di quello che è adesso, attualmente, il quinto libro della Bibbia, il Deuteronomio, che è proprio tutto un ripensamento, una riflessione sull'Esodo. Se vi ricordate chi c'era quando l'abbiamo fatto l'anno scorso? Vi ricordate tutto, no? Sì o sì? E Giosia, sentendo, dice qui, sentendo quel che diceva quel libro, dice qui abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo ritornare al Signore. Prima di tutto avvia se stesso su una strada nuova, la strada della fede. È una scelta che fa lui per primo. E poi, pian piano, organizza una riforma globale della realtà religiosa del Regno del Sud. Dal Regno di Giuda. E lui deve chiamarlo Regno del Sud ormai, perché è del nord del Geppi, Regno di Giuda. Una riforma che dura anni. E che pian piano ha cercato di imporre perfino nelle regioni del nord, dove non c'è più nessun regno. Ma dove ci sono comunque degli ebrei per cercare di aiutare anche loro a staccarsi dall'idolatria e ritornare alla fede nel Dio di Israele. Gli anni di Giosia sono gli anni in cui lavora in Giuda un grande profeta, Geremia, il quale impiega tutta la vita per convincere il popolo di Giuda a tornare al Signore. Quindi sono in due. C'è il re e c'è il profeta. Solo che il profeta non riesce a far diventare sua la riforma voluta da Giosia. Perché? Perché al di là della sua buona fede, della sua buona volontà, della sua conversione reale, lo fa da re. E come lo fa? Cosa vuol dire che lo fa da re? Lo fa cercando di cambiare le regole politiche e sociali. Convinto che cambiando le regole che guidano la società, si accambiano le persone. Geremia invece è convinto che soltanto cambiando i cuori si può arrivare a cambiare la persona. E pian piano cambiando le persone ha senso cambiare poi le regole della società. Tutto sommato, Geremia è convinto che la strada maestra da percorrere è quella che ha percorso il re stesso. Prima è cambiato lui, poi è cercato di cambiare la realtà, le regole sociali. Solo che lui o non ha avuto pazienza o non ha avuto nessuno che le ha riuscito a consigliarlo nel modo giusto, o non ha ascoltato i consigli giusti se li ha avuti, e l'ha imposta la sua riforma. Si può costringere qualcuno a essere onesto, a essere credente con la punta della spada alla gola? Ci può? No. E infatti la sua riforma purtroppo fallirà, prima ancora che muoia lui. Però questa sua riforma, questo rinnovamento del culto, riportare i sacerdoti giusti, i discendenti di Aronne, al Tempio di Gerusalemme, rimettere la parola di Dio in auge, far diventare un libro di tutti, quel libro che era stato trovato, quel rotolo della legge, riportare tutto il popolo a riprendere in mano, a riflettere sulla parola di Dio, qualcosa ha lasciato. Un po' attraverso il profeta Geremio, un po' attraverso la sua riforma, si è avviato in Giuda, in Gerusalemme, tutto un ripensamento della propria fede, e del senso della fede nel quotidiano. E siccome questa fede è fondata su quel che ha fatto Dio per il popolo, quindi sull'esodo fondamentalmente, sulla Pasqua, è con lui per esempio che si ricomincerà a celebrare la Pasqua di Giuda. Pensate, recupera la Pasqua, recupera la riflessione sulla Pasqua, e Pasqua vuol dire Dio che agisce, Dio che lavora per noi, Dio che ci fa un regalo, diventare consapevoli di questo. E tutto questo lavorio porterà i suoi frutti, non subito, durante l'esilio a Babilonia, perché un gruppo di sacerdoti e discepoli dei profeti continueranno questa riflessione anche durante l'esilio a Babilonia, e questo farà in modo che tra la fine dell'esilio e i primi decenni del rientro, di chi accetterà di ritornare, in Israele si arrivi a una consapevolezza della presenza di Dio nel suo popolo che porterà alla stesura dei primi undici libri della Bibbia, così come ne abbiamo noi. Infatti da Genesi 1 fino alla fine del secondo libro di Re, si chiamerà Opera Deuteronomista. Questi libri sono arrivati alla stesura come li abbiamo oggi, durante quell'epoca, quel periodo. Per cui è fondamentale nella consapevolezza. E ancora oggi quella riforma di Giosia ha dato il nome addirittura al quinto libro della Torah, della Bibbia, come lo abbiamo noi oggi, che si chiama Deuteronomio, seconda legge, che è tutta una riflessione sul senso dell'esodo, e ha fatto in modo tutto sommato che proprio di Giuda, dopo il rientro dall'esilio, possa avere una base su cui costruire una comunità credente. non è poco quel che ha lasciato. Nonostante il fallimento, mi interessava sottolineare il giudizio globale che la Bibbia dà su questo re. È re per 31 anni. So che comincia a 8 anni, quindi a quanti anni muore? A 39 anni. Le mie straecce. Ma lui è giovanissimo. Capitolo 23, versetto 25. Prima di Giosia non c'era stato alcun altro re che fosse tornato al Signore con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, seguendo l'intera legge di Mosè. Neppure dopo ce ne fu un altro come lui. È un giudizio ancora migliore di quello su Ezechia. Un giudizio meraviglioso. Che riguarda che cosa però? La sua capacità personale di conversione a Dio. Il linguaggio utilizzato dall'autore per descrivere la sua conversione. Tornare a Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Cosa che vi ricorda? Signori, qui vi voglio, eh. Non è il comandamento. È lo Shema. Cos'è lo Shema? È la preghiera quotidiana di ogni ebreo ancora oggi. Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore Uno, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. E poi dopo Gesù aggiunge amerai il prossimo Dio come te stesso. Noi lo chiamiamo il comandamento dell'amore di Dio. Gli ebrei lo chiamano il comandamento della? Bravo. Chi l'ha detto? Bravo. Della totalità. Perché al centro per loro c'è quello. Con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Tutto, tutto, tutto. E stiamo capaci di amare con le nostre forze. Quell'amore è lì. È risposta lo Shema. E infatti cosa ha fatto Gesù? Ha ascoltato la parola, l'ha lasciata entrare, ha messo in discussione le sue precomprensioni, si è convertito, e l'ha fatto con tutto il cuore, con tutta la mente. È risposta. Il nostro impegno è sempre risposta a qualcosa che arriva da fuori. La fede non nasce dal cuore. L'abbiamo già detto. La fede non nasce dal nostro cuore. Nasce dall'orecchio, signori. Dall'orecchio. Dal cuore cos'è che nasce? Stiamo parlando di fede, quindi la religione, il bisogno di Dio, il cercare Dio perché serve, questo nasce dal cuore. Non è sbagliato, eh? Ma non è la fede. Anzi, questo sentimento che nasce dal cuore è facilmente proprio la nostra risposta a quel regalo, anche quello, che abbiamo ricevuto di essere fatti a immagine e somiglianza di Dio. Quello stampino sul quale ci siamo costruiti, ci piace o no, che lo crediamo o no o che, però l'edeta è il srededeta del lavoro. E se lo ascoltiamo, si porta lì. Però l'esperienza, la storia si dice anche che l'uomo, questo bisogno, che potrebbe essere un aprirsi al suo dono, spesso volentieri l'uomo l'ha vissuto come? Come un suo diritto. Io ho diritto che tu faccia quel che mi serve. Quindi cerco Dio perché faccia per me quel che serve a me. E in questo la religione può diventare il contrario della fede. La fede è mettersi disponibili verso Dio, chiedere a Dio che ci dia la forza per fare quel che vuole lui. Questa è la fede. Sentare il regalo e rispondere. La religione è cercare Dio quando serve, perché lui faccia quel che vogliamo a noi. È l'altra roba. E facilmente cade nell'idolatria a questo punto, se non si sta attenti. In sé non è sbagliato. Possiamo viverlo in modo sbagliato noi. E di fatto molte volte si concretizza così. Lo vediamo svilupparsi così nella storia. Comunque c'è questo aspetto. Lui l'ha fatto davvero. Si è convertito in pieno. Purtroppo non ha avuto la pazienza o la capacità o gli strumenti per spingere il popolo pian piano a fare lo stesso cammino. Lui pensava di aiutarlo a farlo imponendolo con la forza. E in questo si è sbagliato. C'è quello che sta adored. Per te dire来了. Grazie.